Siamo a Mammola, il paese dello stocco e della gastronomia. Oggi potremmo definirlo a pieno titolo il paese della musica. I ragazzi della scuola media hanno dato ancora una volta il senso della bravura, ma nello stesso tempo hanno saputo mettersi in luce, come già nel passato, su aspetti del nostro tempo. Oggi la musica diviene un elemento di socializzazione, ma nello stesso tempo mette i ragazzi nelle condizioni di poter padroneggiare uno strumento. I ragazzi di Mammola, di un paese dell'entroterra ionico del versante Regino, che si rende protagonista non soltanto in Calabria, ma i ragazzi veicolano la bella musica e il bel canto oltre i confini della nostra regione. Sembra strano, ma in tutti i concorsi che hanno partecipato hanno raggiunto il primo premio con la massima votazione, 100 su 100. Ma non è che noi parliamo di voler inorgoglire i nostri ragazzi, vogliamo dire che vi è una scuola, un ente locale, una comunità attenta ai problemi della scuola, oggi come nel passato. E tutto ciò denota che la scuola si rende interprete e diventa poi agente di innovazione e di cambiamento in questo nostro particolare momento storico, significa che la scuola depone le basi per una crescita civile, sociale, culturale e perché no, anche musicale di questi ragazzi di Mammola. Allora possiamo dire che Mammola non è soltanto il paese della gastronomia, ma diviene pure il paese della bella musica e del bel canto. I ragazzi questa sera, i ragazzi del corso di indirizzo musicale di Mammola, hanno concluso il loro percorso di quest'anno. Sono concluso perché in un mese hanno vinto tre primi premi a livello di concorsi nazionali, ad Ischia, a Locri e ad Acireale proprio ieri. Tre primi premi con 100 su 100, quindi premi assoluti ed è proprio da esserne fieri. In questo mi reputo fortunata, anche perché ho avuto a disposizione dei ragazzi, intendo sia alunni che professori, proprio che il loro percorso è stato contraddistinto proprio da tanto entusiasmo, tanta bravura, competenza, sempre appoggiati sia dai genitori che li hanno seguiti dappertutto, anche dall'amministrazione comunale. Il corso di indirizzo musicale della nostra scuola è un'eccellenza di cui nome come amministrazione, come comunità mammolese ne andiamo fieri. Ovunque andiamo questi ragazzi straordinari accompagnati dai professori riescono talvolmente ad affermarsi con successi che gratificano tutta la comunità mammolese. Grazie a tutti. Grazie a tutti.